Curiosità artistico-letterare. Questa settimana nella sfida avevo messo due grandissimi pittori veneziani, Guardi e Canaletto. Ha vinto quest'ultimo, quindi ecco una curiosità su di lui. Dovete sapere che Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, fu introdotto all'arte della pittura grazie a suo padre, che era scenografo, o per meglio dire pittore di teatro, come veniva chiamato all'epoca. Ed è anche da questa sua influenza familiare che derivò la tecnica prospettica che rese celebri le sue opere. Ma forse questa non è la curiosità più interessante, infatti il nostro artista fu considerato a un certo punto della sua vita un impostore. Ebbene sì, quando negli anni 50 arrivò a Londra, invitato da Joseph Smith, uno dei collezionisti più celebri dell'epoca, a realizzare tante opere sulla città, che ovviamente furono una più bella dell'altra, Molti misero in dubbio il suo nome e lo considerarono un impostore e quindi egli fu obbligato ad effettuare delle dimostrazioni pubbliche per sconfiggere queste maledicenze.